Il challenge in questo anno di Fortnite allora oggi sto facendo armastizio ma non so che challenge fare, quindi mi sa che dopo che io finisco questa partita, dove faccio una partita normalissima, faccio partita normale in singolo e provo a vincere qualcosa, cerco di fare qualcosa, poi sto registrando queste partite subito dopo che aveva finito il video di registrare le altre partite, quindi non so cosa dire, niente, mi sto annoiando anche se c'è oro massiccio, cavolo vai lì, oh, chi ti conosce? Non credo che riesca ad ammazzarti ora, perché? Perché a me? Che cosa ti ha fatto di male? Il gioco? Cioè, non so, nella cesta proprio questo. Me ne devo andare, me ne devo... Addio, cioè, quanto ho rischiato due ceste, nemmeno un'arma decente, sei serio? Certo, terza cesta. Che schifo. Lui ha il pompa, io no. Continuano a spararsi? Ucciso. Ucciso. Godo, ti ha rubato la kille. Mi sa che stava sparando a qualcuno. Ucciso. Infatti stava sparando a lui di sicuro. E due kille ce le sono fatte? Ok. GG man. Questa aveva la frattura portatile, mamma mia. Cioè, guarda di questi. Non so se tenermelo al cecchino, però. Allora, faccio così. Il pompa quello non lo prendo. Poi... Boh. No. Allora, faccio il trucco. Allora, devo cercare di fare questo. Non ce l'ha fatta. No, io lo devo per forza avere. Ho sprecato una... C'è ancora! Se n'è andata. Sono stato stupido e non ce l'ha fatta fare il trucco. Perfetto. Ma tanto, perfettamente perfetto. Non sono riuscita a fare il trucco. Che schifo. Ah, vabbè. Almeno ho altri cittadini. Questo mi consola abbastanza. Cosa ho altri? Oltre ai bouncer? Trappolo? Ok. Player. Lo devo uccidere. Esci. Esci. Esci, dai! Esci, dai! Esci, dai! Preso una volta? Ho quasi senza i colpi. Dai! E che cavolo, però. Devo ucciderla a tutti i costi. Anche senza i colpi. Non è andato lì Ucciso GG Dai dammi sti cose Devo avere i colpi medi Ok via Sai serio Ma quanti materiali danno le rocce C'è 70 Veramente una roccia di da 70 Oh mio dio Da quando Mi sa che c'era un player la Prima sera Ora mi sa che se n'è andato Vabbè c'è un guaccio di pedra GG Poi qua c'è un sacco di alberi Quindi C'è anche un sacco di legna Perfetto C'è anche la cesta Nella cesta Fede troverà E non c'è un sacco di pedra E non c'è un sacco di pedra Niente di che Uno schifo Per Non so se prenderlo col pompa Vabbè no Non so se prenderlo col pompa C'è un sacco di pedra l'air lì lì ci deve essere per forza dg! Erciote un colpo e un hit mamma mia fede adesso si che son messo bene e alleluia però c'è di sicuro qualcun altro ah ho ucciso il tizio e poi l'ho ucciso io no mi sa che ho ucciso due tizi c'è un sacco di loot lì oh mio dio gg ma quanto loot c'è? mamma mia e questo si chiamava essere messi bene boh non so che dire c'è un sacco di loot 6 shieldini mmm i medici che lo prendiamo c'è quanto quante persone aveva ucciso questo? questo è arrivato io e l'ho ucciso ah c'è guardate quanto loot sono messo nel vero chi è che mi spara? chi è che mi ha sparato? liar dai dai devo per forza fare così ah c'è un flyer laggiù che li sparano fai la drappoletta flyer lì muori ok questo è un pro dove? 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 non perché? non ti è che mi ha sparato non qui è mi ha sparato il Uoooooooh, e dai, gg, ucciso pure questo Allora Cildini Ok Andiamo a andare Qui c'è un altro medikit che prendo Muori Lag Scadi Musica 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 Familiar face Born out play